Con noi della Gazzetta Onica il presidente del FGC Leonardo Lacava, da poco eletto, porterà delle novità in un sistema che ha bisogno di tanto rinnovamento. Sì, speriamo che la stagione che va a iniziare fra un po', anche se ci sono stati qualche allungamento dovuto ai termini, anche oggi credo di seconda categoria, porterà un po' a ritardare leggermente l'inizio della terza categoria. Speriamo che se non sarà il 20, probabilmente sarà per il 27 ottobre, perciò probabilmente una settimana, per cui siamo nei tempi che speravamo. Speriamo pure che le società abbiano captato il messaggio di cambiamento che abbiamo voluto portare, soprattutto per quanto riguarda i gironi, cercando di mantenere sempre una composizione su tre gironi. Però facendo in modo di avere finalmente questo girone tutto ionico e questo chiaramente dipende molto anche dalle società che si stanno ancora iscrivendo in questi giorni e che noi abbiamo fino al 2 ottobre la possibilità di aspettarle proprio per iscriversi. Presidente, pronto per questa nuova avventura? Tante sono le responsabilità della FGC? Sì, quest'anno è un anno particolare, credo è un anno legato molto anche a una crisi economica che, come ha detto il Presidente regionale, non ha uguali. In Sicilia in particolare abbiamo visto tantissime defezioni, a partire dall'eccellenza fino probabilmente alla seconda categoria, però credo che verrà fuori sicuramente un campionato compatibile con le esigenze della provincia e del Comitato Provinciale di Messina. Questa crisi tra squadre di eccellenza, promozione, prima categoria, seconda categoria, ritardo nell'inizio dei campionati, può danneggiare il campionato di terza categoria? Ma come dati non credo, perché noi come... Anche come organico? Come organico sicuramente qualche squadra sarà ripescata in seconda categoria, non è detto che qualitivamente il campionato scenda di livello perché mancheranno squadre. Probabilmente potrebbe anche esserci un effetto contrario, cioè che la diminuzione di squadre porta a incrementare qualitivamente la terza categoria con giocatori che probabilmente gli altri anni forse erano in prima o in seconda categoria. Questo lo scopriremo anche in base agli organici, credo che questo è il vostro lavoro a livello di mercato, chiamiamolo così, dove in questi giorni credo che un po' tutti si stanno rinforzando. Prima con i trasferimenti che sono chiusi, purtroppo perché probabilmente con i dilettanti si poteva ancora così godere di questa fase di mercato e poi soprattutto, presumo io, anche con i giocatori che sono rimasti svincolati da squadre importanti, anche in zona sicuramente si accaseranno con delle squadre. Dico, noi l'anno scorso abbiamo portato sette squadre in totale in seconda categoria, qualcuna addirittura quest'anno si è fusa e si trova anche in eccellenza o in promozione. Credo che qualche squadra in questi giorni farà anche la seconda categoria. Penso che qualitivamente il campionato di Messina è sempre stato un campionato di alto livello e speriamo che rimanga tale. Andiamo ad una nota dolente, la salute dei calciatori. Nessuna società si è munita di un defibrillatore, ad eccezione di Savo che grazie all'amministrazione comunale ha un salvavita importante. Cosa può fare la FIGC? Potrebbe contribuire con una parte dei soldi dell'iscrizione? Di giorni, anche se ancora non c'è stato comunicato direttamente, che probabilmente ci sia stata una campagna di promozione fatta da un'associazione dove stanno comunicando la possibilità per tutte le squadre di munirsi di defibrillatore. Credo che sia stato, o a giorni arriverà pure un po' in tutte le società, anche quelle provinciali, arriverà un comunicato della LND dove praticamente stanno comunicando il tipo di prodotto che vanno a confezionare e perciò un po' anche l'eventualità di fare corsi per preparare. Credo che il defibrillatore è una cosa obbligatoria, credo che i comuni debbano rendersi conto che in ogni campo anche una loro responsabilità devono averlo perché il rischio c'è dappertutto e le società purtroppo, dico questo purtroppo perché la legge è chiara, dovranno anche loro in qualche modo munirsi, probabilmente fondandosi, ecco da questo punto di vista unendosi fra di loro per consentire di averlo su ogni campo un mezzo. E' uno degli obiettivi della Lega, in ogni caso la LND con il presidente Tavecchio sicuramente sta già muovendosi, almeno per pubblicizzare quest'obbligo, che come la legge dice nell'arco di 24 mesi sarà obbligatorio. Sì, e questo è un complimento che vi faccio perché effettivamente è un qualcosa che andava in qualche maniera ordinato e dico, noi non chiediamo croce alleate ambulanze o altro, però giustamente il defibrillatore sul campo è qualcosa, ma anche la preparazione delle persone, degli operatori, nei corsi già si insegna qualcosa, nei corsi allenatore, però sicuramente ogni previsione che nell'arco di un anno ci saranno dei corsi anche per un dirigente di società per sapere come deve essere utilizzato. L'idea è fra due anni, ma non possiamo aspettare certo due anni, avere tutti i campi un defibrillatore e in questa maniera essere tranquilli se dovesse succedere qualcosa. Un'ultima domanda, il campionato di defecategoria è fantastico, tecnicamente molto valido, giocatori che scendono di categoria, però la classe arbitrale è mediocre e le società si lamentano perché dicono impieghiamo tanti soldi e a volte perdiamo i nostri obiettivi per delle direzioni arbitrali un po' insufficienti. Quest'anno c'è una nuova classe arbitrale, ci sono arbitri nuovi, anche se giustamente non è compito della FGC di Messina ma di un altro organo, però la FGC di Messina potrebbe stimolare l'altro organismo affinché si impegni maggiormente e valuti settimanalmente le partite che sono più importanti, mandando arbitri. Per quanto riguarda il discorso arbitrale, chiaramente è un discorso strettamente legato all'AIA, perciò non voglio entrare nel loro campo. A giorni ci sarà una riunione, ma da questo punto di vista con l'AIA di Messina e con l'AIA di Ascireale, visto che ultimamente uno dei gironi dell'anno scorso, Ionis, è stato arbitrato dagli arbitri di Ascireale, c'è una buona sinergia, nel senso che dal punto di vista anche l'anno scorso, e questo bisogna dargli merito anche a chi mi ha preceduto, al dottore Tamà, che in qualche maniera c'era una comunicazione con le varie sezioni per quanto riguarda le partite che sabato e domenica andavano a giocarsi. Chiaramente l'anno scorso c'erano 42 squadre, credo che se non ricordo male c'erano quasi 20, forse 18, 20 partite la settimana e in qualche partita le disegnazioni, come voi sapete, a volte non dico che sono sbagliate, ma poteva capitare che giustamente si mandava un arbitro più giovane, ma non per questo meno valido. Ma questa è una polemica che credo ormai dalla Serie A fino all'ultima partita del settore amatoriale c'è, sono delle scelte che vengono fatte a livello nazionale, perciò hanno un minimo di dialogo, c'è alla fine della gara, però effettivamente non ci si può poi stare due ore a discutere. È giusto che ci sia un fatto minimo di dialogo, ma questo credo che onestamente c'è anche durante le partite, non credo che sia mancato. Bisogna però non andare mai oltre certi limiti disciplinari, evitare che sia soltanto una battuta o un dialogo ed evitare certi comportamenti. Quelli in ogni caso, anche da parte della FIGC e del giudice sportivo in particolare, non verranno mai ammessi. Bisogna limitarli sempre a un normale dialogo. Poi, giustamente, ogni tanto qualche episodio arbitrale succede in Serie A, perciò è impossibile non succedere in Serie A. La ringraziamo e gli auguriamo buon lavoro. Grazie.